Questo è un bel luogo per parlare di Europa, ci troviamo sul Monte Quarin, è la prima delle alture del Collio, una zona collinosa che si divide tra Italia e Slovenia, dove si chiama Berda. Quelle che avete visto alle mie spalle sono le alture nelle quali durante la prima guerra mondiale ci fu una vera e propria carneficina, sono le alture del San Michele che digradano poi verso il Carso e verso il Re di Puglia. Perché qui è importante parlare di Europa? Perché queste zone prima della nascita dell'Unione Europea erano zone di guerra, per anni lo sono state, erano zone depresse, economicamente davvero molto in difficoltà, tant'è che venne istituita proprio per questo la regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Qui erano zone di confine, dove il confine era un vero e proprio limes, cioè un limite, perché dall'altra parte a pochi chilometri c'era la ex Jugoslavia, dell'orbita dell'Unione Sovietica, anche se poi si rese indipendente con Tito, ed era una cortina di ferro, un confine invalicabile. Oggi questo confine è un limen, ovvero è una soglia aperta, non esiste più perché la Slovenia è parte dell'Unione Europea e qui si è sviluppata un'economia, una cultura all'insegna di una grande prosperità. Queste ora sono zone ricche e per questo è importante qui parlare d'Europa, perché quando l'Europa non c'era queste zone erano zone povere e disagiate, oggi sono zone prospere e questo è quello a cui serve l'Europa, è questo che dobbiamo costruire e continuare a portare assieme nel futuro.